Terza del convegno premio Deep Feeling LF, tre anni a confronto sul miglio, cinque femmine e un maschio e l'unico maschio è in pista completamente sferato. Uno Violet, tre B, Davide Di Stefano, due Valchiria Barri, Enrico Bellei, tre Venere Barri, Roberto Vecchione, quattro Vision dei Veltri, Roberto Muscolini, cinque, Vermont Chuck SM, Marcello Di Nicola, sei Val Brunaget, Dario Battistini, AP, Vermont Chuck SM. Allineamento ultimato, la macchina che sta gradualmente accelerando, con calma Val Brunaget, lo stacco, Valchiria Barri che rientra a Venere Barri lungo lo steccato Violet 3B, Violet che cerca di ricuscire il gap con Venere che prova ad accodarsi, alla fine la manovra riesce perché Valchiria seguita ad andare piuttosto svelta e a questo punto Valchiria davanti, Venere di rincalzo, poi Violet 3B e poi Val Brunaget 14,2, la frazione d'apertura, gli altri due sono fuori corsa, ovvero Vermont Chuck e Vision dei Veltri. Il quarto iniziale in 28,9, davanti c'è la statuaria Valchiria Barri, la segue Venere Barri, poi Violet... Sbaglia improvvisamente Valchiria e lascia così al comando Venere Barri, 44,3 per i primi 600 metri, l'errore improvviso di Valchiria e allora Venere in vantaggio, davanti a Violet 3B, 1,1,4 per i primi 800 metri. Terza posizione ora per Valchiria che sta risalendo, poi Val Brunaget terza alla corda, Valchiria va su Venere dopo un chilometro coperto sul piede dell'1,17, Valchiria che incalza Venere, Venere si difende, le due seguite da Violet, 4,50 per venire a casa con Venere alla corda, Valchiria che attacca, poi Violet 3B e Val Brunaget siamo al termine della piegata conclusiva con Venere che prova a svincolarsi da Valchiria che non si dà per vinta e con coraggio ci riprova a largo, poi Violet 3B a contatto, 200 al palo, Venere al comando, Valchiria che prova l'ultimo assalto, poi Violet 3B più a largo, Valchiria torna all'attacco di Venere, Valchiria appariglia Venere, poi passa e prova a intervenire Violet, ma se l'è davvero meritata, alla grande Valchiria Barri che spende per andare davanti, si sbaglia, si fa l'ultimo chilometro all'esterno e viene ancora a capo di Venere Barri che per provare ad opporsi alla fine finisce preda anche per il secondo posto di Violet 3B, 2, 1 e 7 decimi, media intorno all'1,16, eccola qua, la monumentale, che bella cavalla che è, Valchiria Barri che viene a vincere, Violet 3B, mezza lunghezza, seconda, a uguale intervallo, al terzo, Venere, Var, Valchiria paga 1,44.